Ragazzi, prima di darvi la buonanotte, volevo farvi vedere una cosa. Questo qua, che è? Alla mia destra, vostra sinistra. Che è? Che è? Che significa? Che vuol dire? Cosa vuol dire? Stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma veramente? No, 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 no. No, 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 non ci confondete, non ci intrecate, non ci mischiate, non... Ascoltate, guardate di qua la mia sinistra, a vostra destra, penso, sì, vabbè, vabbè. Eh? Noi viaggiamo da soli, noi andiamo da soli. Che alleanze, che fondi con chi, con questi, con questi, con questi, con questi. No, 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 noi l'Inter andiamo a corsa sull'Inter, la facciamo da soli. Noi non andiamo né con le guardie, né con i ladri. Noi siamo anarchici. Noi facciamo come ci pare. Noi andiamo con le nostre stesse gambe, grazie. Non abbiamo bisogno di santi alleanze. Alleanze con chi? Con chi ci difava contro, si era... Si era alleato con i cartonati, per vederci perdere, dopo quarti di finale dello scorso campionato? Hm? E poi con chi? Con quell'altri? Con quelli che sono ladri, gobbi, parteggiatori? No, grazie. Mettiamo le cose in chiaro subito. Mettiamole in chiaro perché io ho già troppi posti, ho visto troppe foto. Non mi voglio confondere. Né azzurri, né bianco e neri. Sia chiaro. Sia chiaro. Non abbiamo bisogno di questi. Di nessuno. Noi siamo il Milan. Noi siamo il diavolo rosso-nero. Noi siamo l'incubi di tutti. Perché noi ci nutriamo delle vostre paure, delle vostre incertezze, dei vostri difetti. Noi siamo il Milan. Noi siamo i red e i black, i rosso-neri. Ricordatevelo. E qui chiudo, vi do la buona notte. A domani. Niente alleanze. Niente strette di mano. Con queste qui poi, no, non se ne parla proprio. Arrivederci.